C'è il regalo del contratista, il contratista che trage il broc, che trage il cammino, è da Tresceladone, è da pagatore e evento di apertura. Ah, ok, ho becretto, Maduro. Wow, è il contratista di Colombia? C'è il mio offer, se no? Vaboi, vaboi, abri, nos brux, abitavi, teipo, sobre concierto grandi e sorpresa grande di annoche, lo t'ha Jorge Celedon, di Colombia. Grande coi dei piedi, monstros.